Ancora discariche abusive, ancora sfregi alla natura e all'ambiente, ancora incoscienti che infischiandosene delle più elementari regole di civiltà ed imbarba ad ogni regolamento e normativa in materia di conferimenti speciali si disfa di materiali ingombranti. Siamo a pochi chilometri dal centro di Fano, in aperta campagna, una strada usata da chi abita da queste parti e che ama la natura e che invece stamattina recandosi al lavoro ha fatto la marascoperta. Abbiamo noi a Fano un servizio doc che lo vengono addirittura a ritirare gratuitamente, invece mi trovo nel bel mezzo della campagna verde, una cosa incontaminata, un camioncino di immondizia di tutto, scatoloni, bottiglie, come uno avesse pulito un garage, ma è un metro cubo di roba. Hanno preso di mira le campagne perché sono posti isolati che magari o in tarda serata o in prima mattina o di notte approfittano per fare queste discariche abusive. Qualcuno quando vede questi camioncini di prendergli magari la targa anche a scopo di fare delle indagini. La zona isolata forse ha aiutato il criminale ecologico a disfarsi con il favore del buio che cala presto in questo periodo di ogni cosa in suo possesso e anche noi abbiamo faticato non poco nel trovarla. In questa strada con un panorama splendido, quando c'è bel tempo naturalmente si gode, è una vista veramente bella ma che guardate qui viene deturpata da questo scempio, un vero e proprio scempio. Come diceva il signor Battistini c'è di tutto, sembra un garage svuotato perché ci sono strumenti elettrici, materiale di risulta da una cucina, sembra un comune garage svuotato e buttato qui sul ciglio della strada. Tra l'altro è anche pericoloso perché ci sono delle bottiglie, ci sono dei frammenti di vetro taglienti che possono ferire chi passasse eventualmente qui. Addirittura anche una matriosca, quindi ci sono oggetti casalinghi e oltre a materiale elettrico, vecchi lampadari, delle cassette di bottiglie, è veramente un brutto spettacolo. Grazie.